Mettereste un deposito di scoria nucleare a Pompei o magari nella reguna di Venezia? Non credo proprio, ed è per questo motivo che è impensabile anche solo ipotizzare che una simile realizzazione debba essere fatta nei pressi di Matera o in altre aree della Basilicata. Una regione, e bene ricordarlo ancora una volta, che ha già dato e sta continuando a dare tanto all'Italia in termini di risorse energetiche ed uso del territorio. Benvenga quindi la consultazione pubblica, che speriamo si svolga con il massimo coinvolgimento delle istituzioni e di tutti i soggetti portatori di interessi. Ma sin d'ora deve essere chiaro che nel nostro territorio non sorgerà nessun deposito di rifiuti nucleari, né ora e né mai. Grazie a tutti.